E cari amici di Studio 90 Italia, ben trovati ancora una volta per questo speciale dedicato al Festival di Sanremo, con me Paola Quattro e i nostri microfoni. Ecco, e questo è il momento che definirei perfetto, lui è al suo secondo Festival di Sanremo dopo Rose Viola, lo abbiamo visto esibirsi sul palco con questo brano veramente molto molto raffinato e ne parliamo subito con Gaemon. Ciao! Ciao, ciao, come va? Ciao, ciao! Per me è stato comunque emozionante, io sono uscito dal teatro contento, non ovviamente contento del fatto che il teatro fosse vuoto, ci mancherebbe, però l'emozione è stata comunque forte. Poi inevitabilmente una parte di quello che facciamo necessita che ci sia il pubblico davanti, per forza, perché è un dialogo, altrimenti è come parlare all'interno di una stanza vuota, non è la stessa cosa, è normale. Io ho ascoltato con attenzione anche il testo, soprattutto di questo brano, nonostante il buio tu racconti proprio che non ti senti secondo a nessuno, che quasi tutti, quasi tutti almeno una volta è capitato e anche nel tuo libro ne hai parlato, insomma quindi ti rifai un po' anche al tuo libro, ma c'è una crepa in ogni cosa e proprio da lì che entra la luce, no? È vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è proprio infatti volevo più concentrarmi sulla luce che entrava che sulla crepa, diciamo che sulla crepa mi sono concentrato prima, sulle ferite mi sono concentrato prima, invece adesso volevo, volevo fare una canzone che parlasse alle persone e parlasse delle persone, perché credo che poi le storie delle vittorie, delle sconfitte e l'amare se stessi che è la cosa più difficile del mondo è una cosa insomma che condividiamo proprio tutti, 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 quindi volevo fare un pezzo in cui le persone si potessero rivedere. E adesso ami te stesso perché tu sei totalmente rinnovato, sei cambiato in tanto e credo che adesso Gamon ami se stesso? Beh amo, non lo so, mi vedo più come un amico diciamo, però no, no, a parte gli scherzi sicuramente diciamo sono più a mio agio diciamo con me stesso e questa è una cosa positiva e non succede diciamo dal giorno alla notte con uno schiocco di dita, diciamo che solo quando ti conosci un po' di più e impari i tuoi meccanismi ti puoi volere anche più bene. Adesso scherzo un po' su perché so che tu collezioni scarpe, c'ho la fissa pure io delle scarpe e quindi pensavo e mi chiedevo ma chissà come è entrato in crisi nello scegliere le scarpe da portare a Sanremo, visto che c'è una collezione? Eh, sono entrato in crisi, infatti poi a un certo punto ho detto ai ragazzi che lavoravano al mio styling scegliete voi perché io non sono capace altrimenti mi porto tutta la casa. E vissero feriti e contenti, è l'album che uscirà il 19 marzo dove si rimarca un po' il periodo che attraversiamo proprio con questo titolo immagino. Sì, quando mi è venuto in mente ho detto è quello giusto perché coglieva l'attimo diceva come io spero insomma che saremmo tutti nel momento in cui ci mettiamo questa storia che stiamo vivendo alle spalle, cioè feriti inevitabilmente perché comunque siamo stati colpiti anche se magari non abbiamo vissuto direttamente magari il virus indirettamente, siamo tutti stati colpiti e però magari contenti di aver superato questo periodo, di aver imparato cose nuove, insomma. Io ringrazio tantissimo Gamon, tra l'altro un'ultima domanda visto che ci sarà la serata delle cover con le ragazze, tu porterai insomma quindi per caso un medley di canzoni. Come mai questa scelta? Beh, la scelta è sia musicale che diciamo di tema perché le canzoni che affronto sono le ragazze, donne di zucchero a quel sapone degli stadio che parla diciamo di una donna bambina e la canzone del sole e diciamo che è un tributo da parte, insieme ai manieri per caso siamo sette uomini che tributano all'essere perfetto che è la donna e che non si può proprio dire che i maschi siano perfetti. Che bella risposta Gamon, grazie davvero di cuore per essere stato con noi, complimenti ancora una volta per il momento perfetto che noi adesso ascolteremo e che dire, buon festival, buona musica e soprattutto incrociamo le dita perché non vediamo l'ora di vedere poi i concerti degli artisti, quindi speriamo presto. Dita incrociate, viva e grazie mille a te e a tutti gli ascoltatori.